Less gold Ti do 10 euro e ci sto rimettendo Mio figlio prefera morire Però addio eh dai No mamma ragazzi Che menudo 1500 Oba Promettimi che li userai bene questi soldini Sì grazie Che è stato 109 10 19 09 Grazie Oddio Grazie Lorenz Grazie Oddio eh Oddio eh Grazie È buona Ma basta Mi sono caduti 5 euro Io non ti ringrazio più Non ti ringrazio Grazie 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 Però Basta 20 secondi 20 secondi Chissà cosa succederà in questi 20 secondi Qualcuno donerà O mi permetterà di andare a letto Però addio eh Però addio eh 2dev sensei protegge Ma cosa protegge Ma cosa protegge C'è anche La cifra alternativa Vabbè dai Dai Vi amo Attenzione A sto punto A sto punto donami tutto insieme 200 euro E facciamo una finita E facciamo una finita Dio ragazzi Ma Mi posso andare a sciacquare il viso Mi va a lasciacquare il viso Dai Pazienza Poi aggiungo i secondi Ok Meglio eh Meglio Quanti secondi Aggiungo Un minuto Aggiungo un minuto Ci sta Quanto ci sarò stato Un bagno Ma poi sempre lui Prima o poi andrai a letto 2dev Dovrai andare a letto A dormire Dai Ora se ridona 2dev Guarda T'azzardò eh Per vedere l'orario